Tutto pronto per la settima edizione della Gran Festa del Pane di Altomonte che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno prossimi. La manifestazione, presentata ieri nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'amministrazione comunale di Altomonte e promossa dalla Camera di Commercio di Cosenza, sarà dedicata al tema pane e salute. La manifestazione si svolge nel centro storico di Altomonte, trasformato per l'occasione in una sorta di grande panificio all'aperto, dove i visitatori saranno accompagnati e guidati nei luoghi dove si possono sentire i profumi dei panni appena sfornati e scoprire gli ingredienti, gli attrezzi, i cicli e le tecniche utilizzate nella lavorazione del pane. Questa manifestazione sta crescendo di anno in anno, di giorno in giorno e questo non possiamo essere solamente che soddisfatti perché quando si parla di tradizione, di cultura del territorio, si parla in genere di quelle che può essere le nostre eccellenze perché al pane poi si accompagna una serie, si accompagna con il vino, si accompagna con i salumi, si accompagna anche con il nostro territorio, alcune località sono identificate anche con il pane, il pane di quel comune, il pane di quell'altro comune. L'obiettivo della Gran Festa del Pane è quello di rafforzare la possibilità che lo sviluppo gastronomico e turistico passino attraverso la riappropriazione della nostra identità mediterranea e la sua affermazione. Come ogni anno saranno numerose e diversificate le attività che si svolgeranno nell'ambito della manifestazione, dai forni accesi alle mostre e convegni. Quest'anno Pane e Salute si lega in maniera particolare per esempio al progetto sulla prevenzione medica che Altomonte da molti anni porta avanti, che è Altomonte 2000, città del benessere, che tra l'altro sarà fortemente valorizzato all'interno degli appuntamenti del programma. E poi quest'anno la riflessione tra Pane e Salute si va a legare ad alcune iniziative di carattere mondiale, per esempio sulla celiachia o anche sulla sicurezza alimentare. Quindi è anche una prova per dimostrare che la Gran Festa del Pane di Altomonte non è certamente una sagra, ma è un momento anche di approfondimento scientifico dello stato dell'arte su alcuni temi particolarmente importanti. Abbiamo pensato di fare questa cosa intanto per divulgare sempre di più i nostri prodotti e farli conoscere sul territorio nazionale, ma soprattutto per rendere accattivante questa cosa, renderla accattivante a voi di mass media, renderla accattivante ai curiosi, perché l'abbiamo già messo su internet, stiamo ricevendo messaggi bellissimi, ma soprattutto per far conoscere, per far maritare i nostri buoni panni con altrettante eccellenze nazionali e altrettante eccellenze calabresi con altrettanti panni nazionali. Grazie. Grazie. Grazie.